Siamo presenti, circolo Bucitti, a nome della Federazione Italiana Tennis, in piazza della giornata nazionale dello sport. Promuoviamo lo sport insieme ai ragazzi diversamenti abili, che il circolo Bucitti ormai lavora da 8-20 anni. Oggi, stamattina, abbiamo gli atleti in carrozzina e poi il pomeriggio dedicheremo lo spazio a tutti i bambini per farli giocare e divertirli.